Un incontro tra i genitori del Comitato giù le mani dalle menze e l'assessore Lucia Tanti che si è concluso in un modo brusco interrompendo così anche il dialogo. Cos'è successo? È successo che dopo aver replicato ad alcuni dati e informazioni che l'assessore ci forniva io ho affermato, appoggiandomi, facendo riferimento a tutte le evidenze scientifiche testimoniate nel corso del convegno di sabato scorso all'ospedale Pieraccini, all'auditorio Pieraccini e testimoniate da autorevolissime personalità del mondo scientifico e medico ho riportato l'attenzione sul fatto che il cibo processato industrialmente è un cibo privato dei suoi valori nutritivi e che somministrato in regime di concessione ventennale avrebbe inevitabilmente procurato gravi danni o comunque gravi rischi alla salute dei bambini che in quanto tale era una decisione da prendere con assoluta responsabilità e approfondimento. E' anche l'intervento del sindaco? Se verrà mantenuta la decisione di liquidare il comitato e di non riconoscere nessuna legittimità a quella che è stata la sua capacità anche di coagulare le preoccupazioni e le necessità di oltre 2.400 persone ci rimane solo la speranza che almeno il primo cittadino che è il vero garante della salute pubblica intervenga e dia riscontro a una richiesta così forte e significativa.